Ciao, buongiorno, buonasera, non lo so che ora vedrete questo video, ma bentornati sul nostro canale. Io sono Maria Elena, Danny l'avete conosciuto, Diaga l'avete visto solo domani il sabato e insieme siamo gli artefatti. Prima di iniziare questo video vi ricordo che c'è la sigla! Bene, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate tanti like e perché no commentate anche il video. Ma senza induggi partiamo con questo video. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!